Il credito nel secondo trimestre del 2024, almeno nella banca del territorio, quindi una banca di credito come il nostro, ha dimostrato una ripresa ma soprattutto una volontà di guardare a quello che è il mondo del green. Infatti ho fatto presente proprio in questa occasione di quelle che sono le risorse che Banca Preabisa Biagio sta mettendo a disposizione, quindi dei plafond per quello che è il fotovoltaio energetico e soprattutto guardare le aziende per diminuire i costi fissi. Se oggi guardiamo l'indice di sostenibilità come indice utile per il miglioramento dell'azienda è soprattutto anche un miglioramento della marginalità. Oggi guardare a cambiare o a sostituire macchinari o strutture che sono onerose e costose mette la possibilità all'azienda di avere un futuro delle marginalità. Ecco che Banca Preabisa Biagio ha messo a disposizione il plafond e delle risorse adeguate per quelle che sono le imprese e anche le famiglie, perché le famiglie poi aiuteranno le imprese a dare servizi.